All'interno del museo della città di Sarno, museo archeologico, non ci sono solo pezzi che riguardano il nostro territorio. Abbiamo trovato una sorpresa, ma una lieta sorpresa. Abbiamo trovato delle collane, dei monili, insomma abbiamo trovato qualcosa di curioso e che ci ha incuriosito per davvero. Queste perle vengono dall'Africa, però il venire dall'Africa non significa solo africana. Difatti sono dei vetri costruiti in casa nostra italiana, voglio dire. Sono di Murano e vengono da una storia lunga, dal Medioevo, il vetro di Murano, fino ai giorni d'oggi conosciamo le Murrine. I veneziani di Murano hanno lavorato, dopo la scoperta dell'America di Cristoforo Colombo, hanno lavorato per i nostri colonizzatori europei che andavano in Africa per motivi commerciali e non solo. Erano fiorentini, gli italiani ci stavano, non c'era l'Italia. Queste monete fabbricate in Italia, portate in Africa, servivano a cosa? Servivano a barattare i Bois de Ben, come si dicevano, i legni neri e i capellignam, tutto qua. I capellignam che venivano razzolati all'interno dell'Africa occidentale essenzialmente dai re locali dell'epoca per essere approntati, marchiati a fuoco sulle spiagge, nelle fortezze costruite dai colonizzatori dove arrivavano con i loro ovelieri, imbarcavano, scambiavano e pagavano con molte cose. Tra le altre cose erano molto gradite alle signore africane e ai re africani e queste perle di pasta vitrea ed erano anche specializzate nel senso che ogni commerciante ogni re gradiva una certa perla di un certo colore, di un certo disegno eccetera. Per cui viaggiare a quei tempi diventava anche pesante perché bisognava approvvigionarsi di certe perle per andare a comprare gli scaviti a quello, però poi vado dall'altro a quello ha bisogno, per cui insomma la cosa diventava veramente pesante. Mi ha detto anche poco fa che queste perle servivano anche a certi riti, cioè ai riti di budù. Eh sì, questo è il significato originario di queste perle di pasta vitrea come moneta pagante per lo scambio, insomma ha avuto molto fortuna, poi importata nel nuovo continente in America Latina, nei Caraibi con gli schiavi perché gli schiavi lasciavano qualcosa a casa. La testa se la portavano dietro, i riti budù se li portavano dietro, quello che teneva insieme poi le comunità degli schiavi in America.